Ciao a tutti da Mountain Bike Connection Summer 2022 ad Andalo sul sentiero Willy Wonka di Donomiti Paganella Bicaria. Questa è l'occasione per provare in anteprima i nuovi pneumatici Pirelli Scorpion della linea Race dedicata al mondo gravity, quindi enduro e downing. Nello specifico siamo qua con lo pneumatico per terreni misti da enduro, ha una costruzione totalmente inedita a partire dalla carcassa per finire con il battistrada. Il processo di progettazione e sviluppo è durato circa un anno e mezzo con il prezioso supporto di una figura storica del movimento downing ma anche enduro in seguito come Fabian Barel e con gli atleti supportati da Pirelli. Questa è una gomma per l'agonismo duro e puro che non ha concessioni sul comfort, quindi prestazioni, ma soprattutto come ha voluto specificare Pirelli per dare tutta la prevedibilità necessaria in ambito competitivo. Infatti qui non conta solo la performance pura ma al biker serve anche la confidenza necessaria per capire dove mettere la gomma, tenerla dall'ingresso curva sino l'uscita passando per la conduzione senza alcuna perdita d'aderenza. La particolarità di questi pneumatici è la costruzione a doppio strato. Nel caso dell'enduro è una doppia tela a 120 fili per pollici con un supporto nella parte che va dal cerchietto sino a metà spalla per evitare, per prevenire le pizzicature. Il design della tassalatura è nuovissimo, ne abbiamo tre a seconda del terreno, quindi da quelli vicidi e inconsistenti a quelli compatte e veloci passando per i terreni misti, più la versione per il fango che è una versione specifica di utilizzo limitato. La durezza è 40 dure, ma un'altra particolarità sta nel fatto che la parte inferiore della tassalatura si basa su un'altra mescola più dura con inserimenti differenziati a seconda della zona, quindi dalla spalla alla fila dei tasselli centrale, in modo da avere il giusto supporto in ogni condizione, appunto per lavorare a braccetto con la mescola a contatto col terreno e quindi ottenere il massimo, come abbiamo accennato prima, alla prevedibilità nella risposta. Inizialmente saranno disponibili le versioni per terreni misti e morbidi e poi quella per terreni duro e la versione per appunto terreni fangosi. La sezione sarà solo di 2,5 pollici e misurata su cerchi di sezione interna da 30 mm. Questa di andalo è solo un'anticipazione, abbiamo notato un grande balzo in avanti rispetto alla precedente generazione, riceveremo un set completo di pneumatici Pirelli Scorpion Race, per destinazione enduro e state sintonizzati per leggere il nostro test approfondito. Ciao a tutti!